Disco verde al secondo piano industriale in Puglia per Magnetti Marelli del gruppo Fiat. Lo prevede l'accordo di programma stipulato dall'Aggiunta Vendola da 33,9 milioni di euro di cui quasi 10 a carico della regione. L'azienda costruirà nello stabilimento di Modugno tre nuove catene di montaggio di cui una interamente dedicata alle vetture ibride con la doppia alimentazione a benzina ed elettrica. La novità è che sarà creato un dispositivo grazie al quale le auto potranno marciare elettricamente e recuperare in frenata energia cinetica per ricaricare le batterie. Inoltre la sperimentazione della nuova frizione applicabile a tutte le vetture destinata a migliorare lo stop and start per ridurre i consumi e ancora il nuovo iniettore benzina IHP3 più ad alta pressione. Su Bari in passato è nato il rivoluzionario iniettore diesel Common Rail. L'aiuto regionale ha scongiurato l'approdo dell'investimento in altri siti italiani e internazionali. Bologna Crevalcore, Slovacchia e Brasile. Una quarantina i nuovi posti di lavoro che saranno al momento attivati dalla Magnetti Marelli. L'investimento prevede opere murarie, nuovi macchinari e recupero di energia con i pannelli solari. Nel 2011 l'azienda di componenti per auto aveva già avviato un piano da 33 milioni di euro con oltre 200 posti di lavoro. In totale la regione Puglia ha sottoscritto 23 contratti di programma con grosse imprese con 592,5 milioni di euro di investimento di cui 179 di aiuti pubblici.